Buongiorno, ben trovati. Appuntamento di giovedì 31 marzo con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa. Apriamo con il santo che viene ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. Si tratta di San Beniamino, diacono e martire. Oggi è anche la sua festa. Un santo unico in questo nome, vissuto in Persia, verso il 400. Anche il re persiano, Isberge, adoratore del fuoco e del sole, perseguitava i cristiani. Il diacono Beniamino fu da lui tenuto in carcere per due anni. Doveva essere un personaggio importante, anzi addirittura popolare, perché l'ambasciatore dell'imperatore romano Teodosio, che negoziava un trattato di pace con il re persiano, pose tra le sue condizioni anche quella di liberare l'illustre prigioniero. Il re a sua volta fece una sua controproposta. avrebbe liberato il diacono Beniamino se questi si fosse impegnato a cessare del tutto la sua opera di apostolato tra i persiani. E in questo caso parlò al prigioniero San Beniamino, che viene ricordato nella giornata di oggi, proprio dalla Chiesa Cattolica, un santo, ricordiamo, diacono e martire della Chiesa Cattolica. Apriamo la nostra rassegna stampa. Vi anticipo che, come nella giornata di ieri e anche oggi, non leggeremo le pagine del quotidiano Il Messaggero, perché per sciopero dei poligrafici il quotidiano romano oggi non è in edicola. Partiamo dunque dal centro, andremo a vedere insieme le quattro edizioni del quotidiano d'Abruzzo. Partiamo dall'edizione di Pescara, i titoli principali. Ecco la prima pagina, liste d'attesa, otto mesi per un esame. Pescara, finiti i fondi per gli straordinari, i tempi si allungano ancora. Poi la fotonotizia, Brioni e Mille allo stadio bocciano i tagli, la nuova assemblea dei dipendenti a penne. Poi le notizie che riguardano le cronache, in questo caso lo sport, una via di mezzo tra sport e cronaca. Pescara, il bilancio, oggi davanti al Tar, alle 11.30 il Tar dell'Aquila si pronuncerà, infatti, sul ricorso presentato dall'ex amministratore delegato della società Bianca Azzurra, Danilo Iannascoli, che ha contestato, contesta il bilancio del 30 giugno dello scorso anno della società Bianca Azzurra. E poi controlli della municipale a Pescara, carro funebre multato, era senza revisione. Poi in provincia di Teramo, padre di cinque figli, muore in fabbrica, aveva 38 anni. Poi un'altra notizia triste che arriva dalla provincia di Pescara, in questo caso da Farindola, è all'ospedale di Pescara, è deceduto due giorni fa, nella tarda serata di due giorni fa, l'agricoltore che era rimasto ferito in una caduta dal trattore, proprio nel suo podere, in una zona di aperta campagna, proprio nei pressi di Farindola. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere insieme l'edizione di Chieti-Lanciano-Vasto, anche in questo caso daremo uno sguardo ai titoli della prima pagina, ai titoli principali dell'edizione Teatina del centro, anche in questo caso l'apertura riguarda un altro incidente stradale avvenuto nella nostra regione, auto contro camion, 23enne grave, Ortona, l'incidente sulla strada statale 16, in prossimità del Lido Riccio. E poi, Madonna delle Piane, siamo a Chieti, inaugurata la stazione degli universitari, vedete il taglio del nastro ieri, tra l'altro, con i responsabili di Trenitalia, e anche, come vedete, con la fascia tricolore del sindaco di Chieti. Poi le cronache, Villa Maglia in lutto, il presidente Battaglini trovato morto in casa, presidente del Villa Maglia Calcio. E poi, a Vasto, folla di amici e colleghi per l'addio all'operaio morto nello schianto in moto, Antonio Fabrizio, 23 anni, operaio nella zona della Val di Sangro. E poi, Vasto ancora, Pennetta fa dietro front, l'Avvocatessa rinuncia alla candidatura a sindaco. Andiamo a vedere ora il centro, la prima pagina del centro, edizione di Teramo. Poi, come di consueto, chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, del Quotidiano d'Abruzzo. Siamo all'edizione di Teramo, padre di cinque figli, muore in fabbrica, è stato stroncato da un malore a 38 anni, mentre lavorava alla pressa. E poi, nube tossica, prime analisi rassicuranti, l'incendio, ricorderete, alla Italpannelli di Ancarano, le prime analisi hanno dato dei responsi sicuramente positivi. Poi, le cronache, siamo a Teramo, destra e sinistra puntano su Cianciotte, già toto candidato per l'elezione, a sindaco, a Cermignano, occupa Casa Popolare, le tagliano l'acqua, e poi a Giulianova, droga e distorsione, in sette, a giudizio. E poi, una notizia che arriva dalla Repubblica Ceca, avvocato investito a Praga, era con il figlio, travolto da un tassista ubriaco. Chiudiamo con l'edizione, come dicevamo, di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, del Quotidiano, il Centro, e poi andremo a vedere un po' di pagine di cronaca nazionale, proprio dal Quotidiano d'Abruzzo. Allora, ecco il titolo principale, rose spine per la verità sul sisma, l'Aquila, mobilitazione in piazza, ricorso in Europa, anti-assoluzioni. E poi, la notizia che riguarda il calcio, ieri si è giocato il recupero di campionato di Serie D, con l'Avezzano che ha battuto il Giulianova, al De Marsi per 2-0. L'Avezzano vince e dedica i tre punti a Samuel, forza Samuel, questa maglietta dedicata a questo giovane, che sta giocando una battaglia molto, una partita molto importante e i giocatori dell'Avezzano hanno voluto dedicare proprio a lui, proprio a Samuel, i tre punti e questa vittoria. Poi Avezzano, ancora Legionella, ora l'Asl, indaga sul decesso, l'Aquila, operata dai ginecologi, sei medici indagati, e poi a Sulmona, Fiera della Discordia, Bancarella in centro, Sulmona si spacca e poi a Cagnano, lesioni stradali, primo caso, due feriti nel frontale, uno viene denunciato. Allora, possiamo andare a vedere ora un po' di pagine, pagine interne del quotidiano Il Centro di cronaca nazionale e poi tra pochissimo vedremo anche dal sito del Ministero degli Interni anche i titoli dei principali quotidiani nazionali. Economia, le scelte, salvabanche, slittono ancora i decreti, rimborsi in alto mare, poi bonus produttività, torna l'aliquota al 10%, dall'economia alla politica, comunali il 5 giugno, il voto è già caos, poi referendum, scontro alla Camera, le minoranze hanno chiesto in vano di sospendere i lavori dall'11 al 17 aprile, poi il libro dell'ex sindaco Ignazio Marino, ex sindaco di Roma ovviamente, che dice Renzi a tavola con le lobby, Marino attacca se avessi seguito i consigli del PD, Sarei in cella, e poi terrorismo, Sarai sbarca a Tripoli, fa spari e cortei, Libia alta tensione per l'insediamento del governo di unità nazionale, gli oppositori si consegni o lasci, il paese, poi l'allarme terrorismo, Bruxelles, aeroporti blindati, in stile Tel Aviv, l'Europa si prepara, e poi la vicenda dei Marò, Girone usato come uno scudo, Roma rinnova la richiesta di rientro, per il Marò rischia di restare in India, altri quattro anni, no di Nuova Delhi, e poi la questione migranti, gentiloni, 3.700 migranti, salvati in cinque giorni, lo ha detto il ministro degli esteri, e poi l'ultima pagina di cronaca nazionale, coppia dell'acido, altri 23 anni, per Alex, uno dei tre giovani accusati di questi atti, lesioni gravissime, nei confronti di alcune persone, che sono rimaste ferite, e sfregiate proprio con l'acido, poi Regeni Italia pronta a sanzionare l'Egitto, se non fornirà prove, e poi scuola, chiuso il concorso docenti, presentate 165.000 domande, e poi lì si vede il Papa Santa Marta, la piccola destinata a restare cieca e storda, corona il suo sogno di incontrare il pontefice. Lasciamo allora per il momento il centro, poi torneremo più tardi, a vedere le pagine delle cronache regionali, per quanto riguarda il quotidiano d'Abruzzo, possiamo andare a vedere insieme, lo faremo tra qualche istante, i titoli dei principali quotidiani nazionali, grazie al sito del Ministero degli Interni, partiamo dal quotidiano di Milano, il Corriere della Sera, sbarca il Premier scontri a Tripoli, milizia in rivolta, contro l'insediamento del governo, riconosciuto dall'ONU, spari in strada, e poi questa notizia con foto, leoni e giraffe colti di sorpresa, da speciali fotocamere, vedete, svelate le lunghe notti degli animali selvatici, poi altri titoli, il caso Marò, l'India, girone non rientra, ma Roma ha due sponde, poi le mini pensioni degli italiani, sotto i 750 euro. Andiamo avanti, siamo al quotidiano La Repubblica, anche qui il titolo d'apertura è dedicato alla Libia, si spara sul governo dell'ONU, Serrai sbarca a Tripoli, da un gommone si insedia a fuoco delle milizie, battaglia tra le varie fazioni, e poi in Canada tradò i muscoli del Canada pacifista, il successo del giovane Premier, così la leadership americana si scopre vecchia, e poi la vicenda della morte del giovane Giulio Reggeni, Verità su Giulio, una rete mondiale chiede giustizia, Egitto, nuovo pool per fare chiarezza su questa vicenda. Proseguiamo, siamo al quotidiano, la stampa di Torino, Libia pronti gli addestratori italiani, arriva al Serrai e Tripoli insorge, vattene o è guerra, scontri nella capitale, e poi giro del mondo in 240 scatti d'autore, da domani a Torino, la mostra di McCurry, Cerco le storie nei volti della gente. E proseguiamo con il quotidiano economico, il sole 24 ore, Telecom via la svolta, Cattaneo è il nuovo amministratore di Telecom Italia, e poi un titolo che riguarda le pensioni, boom delle pensioni di anzianità nel nostro paese, questi i dati forniti dall'Inps. Andiamo avanti con il giornale, sottomissione in corso, autolesionismo occidentale, questo è il titolo principale del quotidiano, il giornale, l'Olanda mette al bando le minigonne per non urtare i musulmani, Marò l'India ci umilia, inaccettabile il rientro di Girone in Italia, e poi il caso Reggeni, la nuova balla egiziana, ucciso da trafficanti di reperti, questo è il titolo, perciò si spiega in un certo senso, il titolo sottomissione in corso. Proseguiamo dal giornale, andiamo al libero, tutte le trappole del canone, impazzirai questo titolo del quotidiano libero, con l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, ma che semplificazione, chi ha diritto a non pagare deve fare l'autocertificazione, se la sbaglia rischia la galera, e l'errore purtroppo è facilissimo, non si capisce neppure quali apparecchi sono soggetti alla tassa, e quali no. E poi anche come sul giornale, qui c'è un titolo che arriva dall'Olanda, addio minigonne, ci aspetta un futuro con il velo, in Olanda le vietano per non irritare i musulmani. Andiamo ancora avanti, siamo al quotidiano Il Foglio, che tratta, come sempre, argomenti soprattutto di natura politica, c'è però un articolo che riguarda la vicenda di Giulio Reggeni, la ragione di Stato alla prova Reggeni, la famiglia del ragazzo ucciso, ha mostrato un volto raro, capace di civismo eroico. Questo l'articolo di Giuliano Ferrara, proprio sulla vicenda di Giulio Reggeni, che è ancora lungi dall'essere chiarita. E siamo al quotidiano di Roma, il tempo, arrivano gli stipendi d'oro, ma soltanto in Parlamento, fino a 2.000 euro in più al mese, per commessi e assistenti, il segretario generale guadagna quasi 1.000 euro al giorno. E poi sempre a Roma, parte lo stadio della Roma, in settimana la consegna del progetto per il nuovo impianto a Tordivalle. Proseguiamo, siamo al quotidiano avvenire della conferenza episcopale italiana, il titolo principale è questo, il sociale fa l'impresa, sia la riforma di terzo settore servizio civile, nasce la Fondazione Italia, semplificare le norme. Poi vedete anche su Avvenire c'è un articolo sulla vicenda di Giulio Reggeni, verità per Giulio Reggeni, la richiesta del Premier, tutti gli atti ai PM italiani, Renzi, il Premier dice, decisi fino alla verità. Proseguiamo con il quotidiano l'unità, la meglio Italia, vedete, questo è il titolo principale, sia la riforma del terzo settore, più forza gli italiani volontari, che fanno la differenza, titolo simile a quello del quotidiano l'avvenire. Siamo poi al manifesto, verità in campo, c'è questo titolo che riguarda anche in questo caso la vicenda di Giulio Reggeni, il viareggio contro ogni violenza a fianco della famiglia Reggeni, il viareggio e il torneo giovanile che si sta svolgendo proprio nella cittadina toscana. E poi un richiamo alla situazione in Libia, scontri dopo lo sbarco di Serrai, l'intervento militare è più vicino. E siamo al quotidiano Il Fatto, nella morsa tra Egitto e Libia, per Renzi e l'ora della verità, sbarco a Tripoli del governo ONU, subito scontri fra milizie, domani il premier da Obama. E noi chiudiamo con il giornale di Sicilia, Palermo, la ZTL slitta al 15 aprile, questo è un titolo ovviamente di carattere più locale, che riguarda proprio la ZTL, che slitterà al 15 aprile nella città palermitana. Noi possiamo chiudere, per quanto concerne il sito del Ministero degli Interni, abbiamo visto i titoli dei principali quotidiani italiani, ora possiamo tornare, anzi possiamo andare a vedere a questo punto, i titoli dei tre quotidiani sportivi, visto che abbiamo visto i titoli principali dei quotidiani nazionali, vediamo anche quelli dei tre quotidiani sportivi italiani, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, Raiola vuota il sacco, Ibra, boom, anche Inter, Milan e Napoli, all'assalto del giocatore che attualmente milita nel Paris Saint-Germain, ovviamente molto richiesto Ibraimovic, nonostante non sia più un giocatore giovanissimo. E poi altri titoli, è sempre Juve, vince il Viareggio ed è già nel futuro, abbiamo detto proprio di questo titolo, prima abbiamo visto dal Fatto Codidiano, anzi dal manifesto sul Viareggio, che si è concluso con la vittoria della Juventus, c'è stato anche questo stricione esposto dai ragazzi, proprio ieri, in occasione della finale, per chiedere giustizia per Giulio Reggeni. Poi altri approfondimenti sulla Gazzetta, Buffon, portiere della Juve, io ultimo romantico, altri due anni e faccio il CT, e poi l'inseguitrice, il Napoli, Amsic, alza la cresta, Sarri Grazie, ora ci crediamo. E siamo al Corriere dello Sport, infinita Juve, anche il Viareggio, Bianconeri ipotecano il futuro, la vittoria della formazione bianconera al torneo di Viareggio, poi in alto, Turecchia Malinter, il fuoriclasse del City, lascerà la Premier a giugno, e chiudiamo con Tutto Sport, Bonucci niente di grave, la sosta nuoce alla salute, Bonucci giocatore della Juventus, che era uscito per infortunio nella gara amichevole fra Italia e Germania, la Juve prepara lo sprint finale con il Napoli, nessuna lesione per il difensore, anche qui su Tutto Sport c'è il richiamo alla Juventus, battuto 3 a 2 il Palermo, bianconeri che vincono, che trionfano al trofeo di Viareggio. Allora possiamo tornare al Quotidiano Il Centro, fra poco parleremo ovviamente di meteo con il nostro Giovanni De Palma, per sapere quale sarà il tempo che ci attende per i prossimi giorni, per le prossime ore, ma noi possiamo andare a vedere intanto qualche pagina di cronaca regionale, proprio dal Quotidiano Il Centro, apriamo dalla prima pagina di cronaca d'Abruzzo, parliamo di scuola, concorso in arrivo, 8 mila domande, c'è un posto per un candidato ogni 5, gran parte delle speranze è riposta sulle cattedre di medie e superiori. Andiamo ancora avanti, Confindustria tira la volata a boccia, piace il suo piano, consiglio direttivo unanime sul nuovo Presidente nazionale, il voto abruzzese decisivo oggi nel ballottaggio con Vacchi, questa è la domanda che si pone Il Quotidiano Il Centro, e poi acqua, bolletta sempre più salata, e gli sprechi, e poi in basso i dati durante il comitato esecutivo della CIS, dati forniti ieri, lavoro in due casi su 10, il posto è diventato stabile, ieri con le nostre telecamere eravamo presenti proprio a seguire proprio questo incontro organizzato dalla CIS a Pescara, abbiamo ascoltato il segretario regionale della CIS, Maurizio Spina, che ha parlato proprio della situazione occupazione nella nostra regione, andiamo a vedere. Il quadro dell'Abruzzo è come una moneta a due risvolti, ci sono dati positivi controbilanciati da dati negativi che si equivalgono, cresce l'export e questo tra le grandi imprese, le miglie imprese innovative che si sono, e questo è positivo, ma non ripartono i consumi interni, e quindi la piccola e miglia impresa non ce la fa, l'artigianato, i servizi e il commercio. L'occupazione ha lo stesso fenomeno, crescere la grande impresa diminuisce nel settore della piccola e piccolissima impresa, crolla nei servizi e nel commercio, crolla completamente nei servizi e nel commercio. C'è bisogno di un intervento forte per far crescere l'occupazione e rilanciare la domanda interna. Ora, su questo versante, noi abbiamo detto alla regione, qualcosa lo puoi fare? Sì, facciamo un patto, un patto per la ripresa e lo sviluppo, con tutti gli stakeholder, tutti, sindacato, forze economiche e così via, individuiamo cose concrete. Allora, quando parte il masterplan, facciamo partire il masterplan, sono risorse importanti sulle infrastrutture, che può aiutare e consolidare. Facciamo un accordo di sperimentazione e di attrazione di nuove imprese, anche dall'estero, con un discorso di tassazione fiscale a divantaggio, con un mercato del lavoro più vantaggioso per i primi tre anni, che l'impegna si insedia. Abbiamo fatto quindi una serie di proposte, cerchiamo di fare un'intesa sulle cose che possiamo fare, da fare presto, in tempi predefiniti, con impegni certi. Io credo che questo potrebbe aiutare. Queste le proposte della CISL sul lavoro. Provincia si cambia in 160 alla regione, operativi da domani, i trasferimenti del personale e gli altri impiegati, in trepida attesa che il portale si sblocchi e poi il piano sociale ai nuovi profili, aumentano povertà e anziani e si fanno sempre meno figli. Siamo arrivati così alle pagine della cronaca di Pescara, ma dobbiamo fermarci per aprire invece la pagina del meteo, come ogni mattina lo facciamo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma, che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, è entrata già da qualche giorno la primavera, come tutti sanno, dal 21 marzo. Siamo a fine marzo e il tempo sembra volgere al bello e soprattutto di giorno si iniziano ad avvertire temperature quasi più che primaverili, possiamo dire. Esattamente Paolo, le temperature che si registreranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno valori che si registrano normalmente in tarda primavera, perché la situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza e dalla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana e con l'arrivo di masse d'aria calda provenienti dai quadranti meridionali. Aria calda che, ripeto, favorirà un ulteriore aumento delle temperature sulla nostra regione nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni. Almeno fino alla fine della settimana avremo valori ben al di sopra delle medie stagionali anche di oltre 10 gradi rispetto ai valori medi del periodo. Temperature elevate e cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento tra domani e dopodomani, ma si tratterà di nubi alte e stratificate. L'unica incognita da segnalare, l'unica possibilità da segnalare riguarda la fascia costiera, dove non si escludono formazioni nebbiose, ma proprio lungo il litorale, mentre non ci saranno particolari problemi per le restanti zone della nostra regione, dove splenderà il sole o tutt'al più ci sarà qualche annuvolamento nel corso della giornata, perché comunque quando risale l'aria calda porta con sé della nuvolosità prevalentemente alta e stratificata, che comunque provoca bellature del cielo, comunque una parziale copertura del cielo. Non ci prevedono, Paolo, sostanziali variazioni nel corso dei prossimi giorni, anche se sul Mediterraneo centro-occidentale, sul Mediterraneo occidentale tra la Sicilia e la Sardegna tenderà a peggiorare il tempo, ma alle nostre latitudini non dovrebbe succedere nulla di particolare anche nel fine settimana, ma non escludo comunque un progressivo aumento della nuvolosità. Per parlare di ipotetico peggioramento dovremo attendere probabilmente la prossima settimana, ma comunque di questa situazione poi ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti. Prima di salutarci, Giovanni, possiamo dire che sono da escludere, almeno secondo quelli che sono i tuoi dati, ritorni repentini del freddo, comunque situazioni più simili all'inverno che invece alla primavera? Sì, esattamente. Possiamo escludere, almeno da qui a 7-8 giorni non si prevedono sostanziali variazioni, anzi le temperature resteranno ben al di sopra delle medie stagionali anche nei prossimi giorni, Paolo, quindi niente freddo, ma temperature, ripeto, decisamente miti, basta pensare che in questo momento la temperatura di campo imperatore è ben oltre i 5 gradi, quindi al di sopra dello zero, quindi questo già sta a testimoniare l'aumento delle temperature già alle quote superiori. Nelle prossime ore, nelle prossime 48 ore avremo valori molto elevati, ben al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio regionale. Paolo. E dunque il caldo è arrivato, io ringrazio Giovanni De Palma, caldo e bel tempo nelle prossime ore, grazie Giovanni, appuntamento con te sempre nel corso di mattino 6, il mattino 6, pardon, domani, intorno alle 7.20. Grazie e buona giornata. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma, ma per restare aggiornati gli strumenti ormai li conoscete, il sito www.abruzzometeo.org, come vedete in primo piano tempo stabile, temperature in progressivo aumento anche in Abruzzo, come abbiamo ascoltato dal nostro Giovanni De Palma, tutte le previsioni aggiornate in tempo reale per quanto concerne la nostra regione, poi c'è anche la pagina Facebook, uno strumento utile anche per interagire con il nostro meteorologo. Noi torniamo prima di una breve pausa ai nostri quotidiani, torniamo al centro per iniziare a leggere le prime pagine che riguardano la cronaca di Pescara, in questo caso si parla di sanità, di liste di attesa, perché sono finiti i fondi per gli esami anche di notte, stop straordinari fino a otto mesi per una risonanza, ecco i tempi delle visite, in questo specchietto le liste d'attesa e quanto bisogna attendere per effettuare un esame in ospedale e poi invece nelle cliniche private si attendono solo tre giorni, basta pagare circa 140 euro e si può eseguire lo stesso esame senza aspettare. La ASL promette, presto metteremo in rete le prenotazioni abbattendo i tempi e poi in basso un progetto del nuovo manager della ASL di Pescara pronto soccorso solo per mamme e bimbi. Andiamo avanti, lasciamo la cronaca che riguarda la sanità, passiamo alla cronaca nera purtroppo perché è morto il pensionato che era caduto nel suo capannone due giorni fa a Farindola fatale a Vincenzo Di Bernardo l'incidente con il trattore, l'uomo è stato ricoverato in ospedale, poi le sue condizioni sono peggiorate ed è arrivato il decesso. E poi un altro titolo, vertice tra il prefetto di Pescara ed il SAP, polizia senza personale, c'è stato l'appello al prefetto, è proprio questo vertice con la massima autorità governativa presente in città. Poi barriere nel fiume, decide la Capitaneria, la Regione annuncia un incontro per valutare la proposta dei bagnatori contro l'inquinamento e poi in basso mercato etnico attivo dal 5 aprile, sportello per i senegalesi e poi la proposta che verrà portata oggi in Consiglio Comunale a Pescara, tassa di soggiorno. Ci sarà il voto proprio dei consiglieri comunali, proprio su questa tassa comunale. Revisione scaduta, multato, carro funebre, ingino corin morto, i vigi urbani controllano 1200 veicoli con lo speed control, maxi ammenda da 2000 euro per una patente revocata. E poi al Museo Colonna, domani dibattito per parlare del confine tra giustizia e politica, sarà presente anche il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini. E oggi alle 17 in CNA, incontro su microimprese con le tecnologie digitali. E poi parliamo della vicenda dei ex lavoratori interinali di Attiva perché salta lo sciopero della fame, nuovo vertice in regione tra D'Alfonso ed una delegazione di dipendenti. Ieri doveva iniziare lo sciopero della fame, così non è stato. Andiamo a vedere dunque il servizio di Francesca Romanatesti che fa un po' il punto della situazione su questa vicenda. Ieri c'è stato un incontro con il Sindaco di Pescara. Il caso era quella della richiesta di togliere dallo spiazzo davanti al Comune quello che era il presidio fisso ormai da diversi mesi. Come è andato l'incontro? Diciamo che l'incontro è stato positivo perché alla fine lui in effetti ci aveva chiesto di smontare che comunque non era neanche un invito, non ha usato l'imperativo. L'abbiamo risolto con l'intelligenza e con la secondaria delle sue richieste. Abbiamo ripulito, abbiamo tolto le battutine offensive, il water, le mutande appese. Quindi diciamo che siamo riscesi di un gradino per quanto riguarda la protesta. E lui attualmente, nell'incontro di ieri, non ha ribadito che ce ne dobbiamo andare. Questa mattina invece un altro incontro è stato quello con il governatore della regione, Luciano D'Alfonso. In queste occasioni di cosa si è parlato? Si è parlato sempre della nostra situazione e lui è venuto con delle buone intenzioni, con qualche novità da studiare ancora, che però parla sempre di una formazione professionale, di un tirocinio e sanno già che a noi questo non sta bene. Per oggi era stato annunciato l'avvio di uno sciopero della fame, è stato tutto quanto rinviato per un lutto. Sì, purtroppo abbiamo avuto un lutto qui sotto la tenda, perché è morto il fratello di due nostri carissimi amici, due combattenti come noi e osserveremo questo giorno di lutto. Poi lo sciopero della fame, vediamo se sarà il caso di partire domani, dopo domani, è una cosa della quale vi informeremo, però per oggi purtroppo non riusciamo a pensare ad altro. Noi ci fermiamo per qualche attimo, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine di Pescara del quotidiano Il Centro, parliamo anche in questo articolo, come si vede, della visita dei giocatori in comune a Pescara. tra selfie e autografi, i disabili incoraggiano Oddo e i giocatori, questa bella iniziativa organizzata ieri proprio dall'amministrazione comunale e dalla società Bianca Azzurra. I ragazzi delle associazioni incontrano il Pescara e sabato allo stadio potranno palleggiare con i ragazzi di Massimo Oddo, vedete nella foto alcuni momenti di questo incontro. E poi in basso, in città, la regata del Contender, il 9-10 aprile, belisti da tutta Italia per l'evento della Lega Navale di Pescara. Andiamo ancora avanti, piercing nei bagni e giardinetti ora basta abusivi, i professionisti abruzzesi fondano un'associazione da domani al Pallacongressi, raduno nazionale dei tatuatori. Siamo a Montesilvano, al via indagine contabile contro i risarcimento facili, i 5 Stelle contestano la consuetudine di pagare i danni a chi si fa male su strade rovinate da degrado in Curia, in un anno e mezzo spesi 52.000 euro. E poi funzionano le fototrappole, ecco chi viene a gettare i rifiuti, prime sanzioni per 1.600 euro. Proseguiamo, prime case non di lusso, il Comune cancella la Tasi, siamo in questo caso a Sportore, recepite le modifiche sulla tassazione previste dalla legge di stabilità, azzerata anche l'Imu per i terreni agricoli di proprietà dei coltivatori diretti. Da Sportore a Pianella, il vecchio teatro risorgerà, presentato il progetto da 450.000 euro per riqualificare l'edificio degli anni 20. Ancora in basso, Montesilvano, il PD, parla dell'attività amministrativa del Comune, dice troppi ritardi sui controlli di gestione. E poi sempre nella città adriatica, un incontro al femminile sugli immigrati. Andiamo avanti per parlare della pagina che riguarda Francavilla e l'area metropolitana di Pescara. Siamo proprio a Francavilla, di Renzo e Luciani, candidati favoriti dai lettori del centro. Chiusa la sfida tra aspiranti sindaco, il sondaggio continua per individuare i consiglieri ideali. Vi ricordo che a Francavilla, ma non solo a Francavilla, nel prossimo mese di giugno si voterà per il rinnovo della carica di sindaco del Consiglio Comunale. E siamo a San Giovanni Teatino, chiacchiaretta, ex oppositore, si schiera con la maggioranza. E poi sempre a Francavilla, musica, poesia ed arte, al Mumi, fino al 17 aprile. Siamo alla pagina di Penne Popoli e l'Alta Val Pescara, l'apertura è dedicata alla vicenda Brioni, l'accordo con Brioni è ancora lontano. Penne, sindacati e lavoratori di nuovo in assemblea allo stadio comunale, in mille sugli spalti per fare il punto sulla crisi. Noi ieri eravamo presenti a Penne con le nostre telecamere, abbiamo seguito proprio questa assemblea all'aperto che si è tenuta allo stadio comunale in contrada Campetto di Penne. Vediamo il servizio. Quasi 1200 lavoratori della Brioni hanno gremito le tribune dello stadio comunale di contrada Campetto di Penne per esaminare le proposte presentate dalla proprietà, alla luce dell'ultimo tavolo tenuto con la regione Abruzzo. La volontà manifestata dal management della società francese è quella di una diminuzione del numero di esuberi inizialmente individuati. I sindacati puntano invece a salvare tutti i posti di lavoro. Si è incanalata la vertenza nella ricerca delle produzioni da reinternalizzare, da riportare dentro. Abbiamo già dei primi numeri, ma sono dei primi numeri. Secondo noi questa operazione va perseguita. Non devono essere 74 gli attuali offerti all'azienda o molti di più. Abbiamo dato la disponibilità a un lavoro sulla riduzione di orario, ma l'obiettivo principale è fare in modo che questa azienda investa sul suo futuro per mantenere tutti i lavoratori presenti. Piano industriale che praticamente non ci permette al momento oggi di poter pensare, come si vuol dire, in grande. Però dal punto di vista sindacale abbiamo visto l'altro giorno, abbiamo dato dimostrazione, giocando anche con l'azienda, che praticamente nel momento in cui abbiamo chiesto all'azienda di reinserire, di immettere una piccola parte economica all'interno del piano industriale, che noi oggi conosciamo e che ci è stato presentato, a Roma, al Ministero del Sviluppo Economico, abbiamo portato a casa circa 20 posti di lavoro. Non è una cosa da poco. Dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo chiesto un segnale, i lavoratori hanno dato un segnale. Sono venuti tutti, anche rispetto all'altra volta il numero è stato più alto. La cosa che deve passare è che il ragionamento che è appena iniziato, la trattativa sarà ancora lunga. Quindi è vero che siamo contenti del fatto che è iniziata la trattativa, ma non possiamo essere soddisfatti di questo risultato parziale. Dobbiamo continuare a perseguire l'obiettivo. E l'obiettivo si può perseguire solo grazie all'unione di tutti. Noi andiamo avanti, sempre dalla pagina di Popoli dell'area Vestina e dell'Alta Val Pescara. Siamo a Sante Eufemia a Maiella, Crivelli chiedi voti per il secondo mandato. Sante Eufemia verso il voto, poi in basso, Manopello sabato a luni al convento per i cento anni delle suore, poi a Civitella a Casanova, zooparco aperto e polemica sul caso Larupe, interviene il parlamentare grillino Bernini. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro, auto si schianta contro camion, grave un 23enne di Ortona, l'incidente sulla strada statale 16 in prossimità del Lido Riccio, il leso il conducente dell'autocarro, il giovane alla guida di una golfa, invaso alla corsia opposta, ora ricoverato al politinico di Chieti. E a Chieti inaugurata la stazione degli studenti universitari, vedete il taglio del nastro alla presenza dei vertici delle ferrovie, con anche il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. E poi in basso, patron di calcio morto in casa, il presidente del Villamagna Calcio, Matteo Battaglini, trovato privo di vita all'interno della sua casa. E poi a Torino di Sangro, morto in moto, Antonio viveva per gli altri, sulla barra dell'operaio, il casco e la divisa da volontario. Siamo alla pagina di Lanciano, la partita dei rifiuti, ecco l'anno, i sindaci e soci dicono sì al Ranieri Bis, l'assemblea conferma l'unanimità, il CDA uscente approva il bilancio inutile, fuori dal coro solo Castelfrentano, mentre Ortona rischia di far rinviare il voto. E poi, sempre a Lanciano, via libera risparmi sui due voci della tariffa, si parla di rifiuti, e poi 20 malati di tumore senza più trasporto, da lunedì la cooperativa Croce Gialla sospende il servizio, il caso approda in Consiglio regionale. Siamo alla pagina dell'Aquila, morto di legionella, indagini della ASL, questo fatto accaduto ad Avezzano, accertamenti su spostamenti e luoghi frequentati dal 55enne negli ultimi dieci giorni, va scoperta la fonte dell'infezione, e poi folla nella chiesa di San Rocco, per l'ultimo saluto a Lucci. In basso, donna operata, sei medici indagati, il caso in tribunale, l'Aquila affidata una perizia per accertare le responsabilità, e poi a Cagnano, a Miterno, lesioni stradali gravi, primo caso nella nostra regione, un automobilista ferito in rianimazione, scatta la denuncia dopo uno scontro frontale. Siamo alla pagina di Teramo, è Teramo provincia, partiamo da Teramo, fabbrica a fuoco, allarme nube tossica, prima analisi, l'aria non è contaminata, in questo caso ovviamente parliamo dell'incendio accaduto ad Ancarano, risultati ufficiosi dal versante Ascolano, il sindaco di Ancarano estende a 5 km il divieto di raccogliere ortaggi e usare acqua, e poi i danni ammontano a 25 milioni di euro, questa è una prima stima dei danni subiti, e poi siamo in provincia di Teramo, Villa Zaccheo, un 38enne di ripattori, ha avuto un malore, mentre lavora alla pressa, oggi sarà eseguita l'autopsia, padre di 5 figli, muore in fabbrica, e poi un'altra notizia triste, che arriva dalla Valvomano, stroncato da infarto sull'autobus, e poi avvocato travolto da tassista ubriaco, sulle strisce a Praga, quest'incidente che è accaduto ad un uomo di Alba Adriatica, si tratta di Roberto Rossoli, 47 anni, conosciutissimo, avvocato proprio della città albense, e poi a Cermignano, occupa la casa con due figlioletti, il sindaco le fa togliere l'acqua. Andiamo ancora avanti, siamo però arrivati alle pagine della cultura, e poi dello sport, dunque possiamo andare a vedere insieme, in questo caso le pagine del quotidiano, la città di Teramo, poi passeremo ovviamente allo sport, per parlare in particolare di serie B, del pescare, anche del lanciano, e anche soprattutto del recupero di campionato, che si è disputato ieri, per quanto concerne la serie D, con la vittoria dell'Avezzano, sul Giulianova per 2 a 0. Ma andiamo per ordine, prima pagina del quotidiano, la città, aperta l'inchiesta per incendio colposo, si parla ovviamente dell'incendio di Ancarano, magistratura in attesa dei rilievi ambientali, sull'inquinamento, nessun indagato al momento. E poi in basso, un titolo che riguarda lo sport, Di Massimo, il gioiellino di Torano, regala il torneo di Viareggio alla Juventus, Di Massimo, che tra l'altro, fino a qualche mese fa, giocava con l'Avezzano. Andiamo avanti, pagina d'Abruzzo, dal quotidiano La Città, piano sociale, sclocco, sarà rivoluzionario, dice l'assessore, presentato ieri, punterà a recuperare i ritardi con il resto d'Italia e a costruire una regione meno vecchia. E poi in basso, c'è questo titolo, che riguarda la morte di un uomo in Marsica, morte a causa della legionella, indagine sugli ultimi giorni della vittima. Andiamo ancora avanti, il rogo di Ancarano, si torna sull'argomento della prima pagina, aperta un'inchiesta per incendio colposo, magistratura in attesa sugli atti che riguardano la nube tossica. La Procura, se fosse riscontrato l'inquinamento, l'inchiesta potrebbe virare sul disastro colposo. In basso, fiato sospeso per il vigile del fuoco, ferito nel rogo, il 44enne di Bellante, in servizio al distaccamento di Nereto, trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo. Andiamo ancora avanti, secondo che dobbiamo riprendere le pagine in ordine proprio di pagina. Il rogo di Ancarano, ecco un'altra pagina che riguarda proprio questa vicenda, scuole chiuse, acqua e ortaggi proibiti attorno all'impianto. Vedete questa cartina che inquadra meglio la zona proprio a ridosso della Italpannelli di Ancarano, dove c'è stato questo incendio. Andiamo ancora avanti, siamo alla cronaca di Teramo, il centro autismo aprirà entro il mese di giugno, doveva aprire lo scorso autunno, ritardo accumulato per un pasticcio della regione Abruzzo. e poi il rapporto acqua a Teramo costa meno, ma aumenta di più periodo di pagamenti di bollette proprio per quanto riguarda l'acqua un po' in tutta Italia. E poi la Torre, la Corte dei Conti, assolve tutti in appello, non ci fu danno erariare per la messa in sicurezza della discarica franata. Cancellate le sanzioni. Proseguiamo, si parla del masterplan, non c'è provincia senza un capoluogo, si parla proprio del masterplan della provincia in questa doppia pagina. Avete visto nella foto il presidente della provincia di Teramo di Sabatino. Proseguiamo, siamo a Castellalto, a questo dramma, a questa tragedia avvenuta a Castellalto, proprio malora in fabbrica, muore operaio di 38 anni, Valerio Cataldi si è accasciato in un'azienda di Villa Zaccheo, l'operaio di Bellante, lascia cinque figli e poi colto da infarte sull'autobus, 63enne, si sente male a Basciano. Proseguiamo, mail booming contro la caccia alla volpe, si allarga la protesta per la decisione della provincia e l'approvazione del piano di contenimento. E poi in basso, a Pescara la riunione delle associazioni venatorie abruzzesi che chiedono a D'Alfonso di avere più considerazione, primi passi verso il coordinamento regionale dei cacciatori. E poi occupa la casa e il comune le toglie l'acqua, ragazza madre di Cermignano accusa l'amministrazione, il sindaco risponde, abbiamo solo seguito la prassi. Proseguiamo, siamo in Val Vibrata, perseguita la ragazza conosciuta su Facebook, 35enne, finisce in carcere per stalking, percosse e violenza privata. In basso, Tortoreto, formalizzata la spaccatura in maggioranza. E poi altre notizie che arrivano dalla Val Vibrata, in alto, a lezione di psicologia con la nuova Sant, e poi a Nereto, Donatella Amabili lascia il posto in consiglio a Fabio Cini. Giulianova Mosciano in sette a processo per spaccio e distorsione. Nel settembre scorso erano finiti in manette al termine dell'inchiesta dei carabinieri denominata Ponte di Legno. In basso, Marina di Mosciano continua a franare per colpa della Regione, sopra il luogo del consigliere regionale dei Cinque Stelle Riccardo Mercante dopo il nuovo crollo di una delle palazzine. Andiamo ancora avanti, siamo a Roseto, la foce del Vomano è di nuovo una discarica materassi inerti e rifiuti di ogni genere depositati vicino al fiume nonostante i controlli siano stati rafforzati. E poi in basso, sempre a Roseto, tutti assolti per la truffa delle auto di lusso. Proseguiamo, siamo a Silvi, l'ultima parola sul piano regolatore al sindaco Comignani. Tutte le parti politiche ribadiscono la necessità di un atto chiaro e definitivo da parte del primo cittadino. Da Silvia Datri, Matricciani risponde al sindaco non ci facciamo intimidire dalla politica. il presidente dell'associazione Gymnasium Audax risponde alle accuse non abbiamo ricevuto un centesimo dal comune. Siamo alla pagina della cultura, da Tornareccio a Milano, professione gallerista, per gli 80 anni di Alfredo Paglione arriva un libro che ne racconta il cammino nell'arte. Andiamo ancora avanti per arrivare alla pagina dello sport che riguarda il Teramo. Teramo a rischio la partita con il Rimini, giocatori romagnoli senza stipendio da mesi proclamano lo sciopero proprio per il giorno della sfida. Sabato infatti in programma Teramo Rimini e c'è questa notizia che è rimbalzata ieri dalla città romagnola con lo sciopero dei giocatori riminesi che dunque potrebbero non scendere in campo per la partita con il Teramo. Tra l'altro per l'occasione per questa partita la società bianco-rossa ha indetto proprio la giornata bianco-rossa dunque non saranno validi gli abbonamenti ma c'è questo punto interrogativo proprio per lo sciopero dei giocatori del Rimini in basso Serie D Cicioni firma per il San Nicolò e rinforza la batteria di portieri l'ex Giulianova si allenava già con i nuovi compagni di squadra. Ancora avanti Giulianova cade ancora eccellenza ad un passo vi dicevo del recupero giocato ieri allo stadio dei Marsi di Avezzano tra Avezzano e Giulianova padroni di casa che si impongono per 2-0 espulsi Giampaolo e Straccia e domenica al Rubens Fadini e in programma Giulianova Chieti noi ieri abbiamo seguito con le nostre telecamere al dei Marsi di Avezzano questo derby questa gara di recupero del campionato di Serie D Avezzano batte Giulianova 2-0 il servizio curato da Andrea Costantini Un Avezzano non proprio in gran spolvero approfitta della crisi su tutti i fronti del Giulianova fa suo per 2-0 il recupero della 28esima giornata in camera tre punti fondamentali in chiave salvezza soprattutto in vista del difficile match di domenica a Fano giallorossi inermi e sostanzialmente rassegnati ad una retrocessione che a questo punto attende solo la ratifica della matematica tra i Marsicani manca Censori c'è Tariuc in mediano al fianco di Sassarini Lucarelli Varon 4-4-2 più classico con De Sanctis Bisegna sulle fasce e Di Genova al fianco di Di Curzio nel Giulianova c'è uno squalificato Marini Emili a sostegno di Giampaolo in attacco Pellecchia parte dalla destra padroni di casa subito pericolosi con le qualità balistiche di Bisegna la cui punizione mancina al secondo viene alzata da Proietti in volo plastico al quarto d'ora sempre in sinistro di Bisegna in azione con un corner carico d'effetto e intercettato in tuffo da Menna che è in corna di un soffio a lato la squadra di Lucarelli appare però arrugginita per la lunga pausa e il gioco è poco fluido dalla parte opposta Giulianova seguito da un drappello di una decina di tifosi è impalpabile in avanti e si limita ad opporre una resistenza che crolla al 38esimo traversone di Bisegna Perucca buca l'intervento e Luca di Genova ringrazia davanti a Proietti l'attaccante non sbaglia e sbuocca il risultato col suo gol numero 4 prima della fine del tempo Capitano Ferrante interviene in maniera provvidenziale su Bisegna prima che il 10 bianco verde calci nei primi minuti della ripresa il duo Gelsi Pisano effettua un paio di cambi con D'Antonio e Alessandroni per Sbaragli e Marzucco ma l'undicesimo Di Curzio con un poderoso scatto si beve mezza difesa di Giulianova Giampaolo lo rincorre e lo stende con un intervento da Tergo inevitabile il rosso sventolato da Camilli di Foligno l'attaccante Giuliese sulla seguente punizione di Bisegna Di Curzio per poco non arriva spara altissimo al ventitresimo Di Curzio conclude sopra la traversa prima della mezz'ora ingenuità di straccia che già ammonito stende di Genova a metà campo doppia munizione e Giulianova in nove l'Avezzano spreca anche troppo nei minuti successivi chiudendo però la pratica al trentottesimo con l'azione di Sassarini che fa tutto da solo e insacca il 2 a 0 seconda marcatura stagionale per il centrocampista che mette i titoli di coda al derby del Dei Marsi con Di Curzio che per un soffio poco prima del fischio finale non si che un tris come soddisfazione personale I ragazzi sono un po' allo sbando nel senso che non sanno che succederà domani dopo domani non hanno una certezza che fra due mesi si fallisce o due mesi entra nella nuova società c'è poca chiarezza quindi dobbiamo solo e esclusivamente lavorare fare il nostro mestiere che è fare i calciatori fare i professionisti quello che stiamo facendo fino ad adesso perché al di là delle sconfitte nessuno ci può rimproverare dell'impegno della negazione dell'attaccamento a questi colori i tre punti erano fondamentali perché oggi non giocava nessuno e noi ci siamo per portare leggermente avanti in classifica e questa è una cosa positiva sicuramente la prestazione non è stata eccezionale ma venivamo da 30 giorni quasi in attività tanti incogniti quando si ricomincia dopo 30 giorni non si sa se si stava bene con le gambe con la testa e poi c'era una partita particolare contro qualcuno che poteva sottovalutarla ma non siamo stati comunque noi perché alla fine non abbiamo rischiato quasi nulla il risultato poi alla fine è giusto però senza fare grandissime cose oggi mi dispiace perché mi piace cercare di giocare sempre un po' di più questo è il servizio sulla vittoria dell'Avezzano sul Giulianova siamo alle pagine dello sport del centro parliamo del Pescara e di questa querelle tra il presidente Sebastiani e l'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli Iannascoli porta il Pescara dai giudici amministrativi il verdetto del Tar atteso per oggi Sebastiani ma se ha gestito lui i conti così si è espresso il dirigente pescarese noi parliamo invece di calcio giocato squadra in crisi di risultati Aresti dice non siamo morti e siamo con Oddo noi andiamo ad ascoltare proprio il tecnico Biancazzurro abbiamo una partita importante in casa contro l'ultimo in classifica e quindi è un bivio importante ovviamente speriamo di poter fare una vittoria perché ci serve come il pane in questo momento e una vittoria probabilmente potrebbe anche sbloccarci a livello emotivo a livello psicologico oltre che a livello di classifico è evidente il fatto che adesso siamo anche usciti fuori dai playoff è inevitabile quando i risultati non vengono è inevitabile che si va sempre a cercare giustamente il perché una squadra non abbia vinto o non abbia continuato a vincere o perché sta perdendo partite ognuno si fa la sua idea e per ognuno intendo anche la società dare sempre il massimo impegno non abbattermi mai questo non avverrà mai posso piegarmi la domenica ma non mi spezzerò mai perché io credo fortemente in quello che faccio credo fortemente assieme al mio staff di poter riuscire a uscire da questo momento di impasse se non fossi il primo a crederci non avrebbe senso stare qui le partite voglio giocarmene voglio giocarmene come abbiamo sempre fatto perché quella fondamentalmente è una nostra arma è sempre stata la nostra arma quello che devo fare io è far ritrovare convinzione e certezza ai ragazzi di poter fare quello che hanno fatto fino adesso e i punti che hanno conquistato fino adesso l'hanno fatto per quelle ragioni non perché ci siamo difesi o abbiamo cercato di portare via un punticino da qualche parte può essere inconsciamente la risposta di qualche ragazzo magari che in mezzo al mercato può essere l'acquisto che ti aspetti che magari non risponde per quello che ti aspettavi può essere la sfortuna c'è tutto c'è una situazione in cui la squadra non è libera e spensierata come prima quindi sono una serie di motivi che fanno sì che che si verificano queste cose e quindi non può essere un caso che perdiamo cinque partite però la testa fa tanto non mi sono mai esaltato sono sempre stato con i piedi per terra come rimango con i piedi per terra adesso perché questo fa parte del calcio ma è giusto che sia così parliamo del Lanciano Aquilanti Spavaldo parla il capitano dei rossoneri il Crotone non ci fa paura la sconfitta con il Perugia è stato solo un incidente di percorso ricordiamo che Crotone Lanciano si giocherà domani sera e rappresenta l'anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie B andiamo avanti parliamo di Lega Pro Rimini i giocatori dichiarano sciopero a Terramola Berretti abbiamo visto anche dal quotidiano la città questa notizia poi l'Aquila Perrone con la Maceratese vuole la rivoluzione e poi il recupero del derby di Serie D abbiamo visto il servizio proprio sulla vittoria dell'Avezzano per 2 a 0 sul Giulianova abbiamo ascoltato anche le interviste con Lucarelli che ovviamente è soddisfatto per la vittoria dei suoi ragazzi e poi in basso del grosso Chieti Alfadini sarà dura domenica saranno i Neroverdi ad affrontare i giuliesi San Nicolò preso Cicioni abbiamo visto anche questa notizia dal giornale La Città chiudiamo con l'ultima pagina di Sport dal centro in festa l'atletica leggera abruzzese sabato a Terramo la cerimonia di premiazione poi torna il Vivi Città con la novità della carrozzina domenica il circuito podistico a Pescara manifestazione organizzata dalla Wisp siamo in chiusura ma io vi devo dare una notizia che è arrivata da poco in redazione è stata battuta da Lanza pochi minuti fa perché il sindaco di Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa è stato arrestato questa mattina dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura della Repubblica di Avezzano sull'affidamento di appalti pubblici la procura ipotizza reati che vanno dalla tentata concussione turbata libertà degli incanti frode nelle pubbliche forniture falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale l'inchiesta scattata ad ottobre scorso con l'acquisizione di atti in municipio da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo ha portato all'arresto di altri amministratori liberi professionisti ed imprenditori i dettagli dell'inchiesta saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa tenuta dal procuratore della Repubblica di Avezzano Andrea Morichini che si terrà conferenza stampa questa mattina alle 11 nel comando compagnia carabinieri di Tagliacozzo siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo come sempre alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti